Un buon poveriggio agli amici di Yant.it, un buon poveriggio ad Andrea D'Angelo, prima volta dei nostri studi, responsabile della palestra Artbeat Gym, giusto? Per presentarci questa seconda edizione Artbeat che si svolgerà, siamo detto pronto, dal 24 al 26 giugno presso la Beach Arena. Grazie per il tuo intervento e nel dettaglio spiega agli amici di Yant di che si tratta. Grazie direttore, buonasera a tutti i telespettatori di Yant. Ci troviamo qui a parlare di questa seconda edizione di 8bit che quest'anno si è presa in carico la palestra Artbeat Gym di San Benedetto del Tronto di organizzare insieme alle madrine Katia Minervini e Roberta Ripani una tre giorni di fitness di alto livello poiché saranno presenti circa 20 presenter a livello nazionale ed internazionale che arriveranno in Rivera appunto per presentare i loro innovativi e comunque così entusiasmanti programmi di fitness che attualmente sono in voga, ripeto, sia in Italia ma soprattutto anche all'estero. Ecco Andrea, sono tre giorni quindi abbastanza intensi, Beach Arena si sposa per questi eventi e giustamente se lo ripetete vuol dire che ha avuto un bel successo e una passata edizione. Esatto, soprattutto ringraziamo anche il Comune per averci messo a disposizione questa importante location che permette una buona, anzi un'ottima affluenza di pubblico sia a Rivierasco ma soprattutto di fuori perché abbiamo avuto moltissime edizioni, almeno un 200 persone arriveranno dal Belgio, addirittura dall'Olanda e comunque anche dalle regioni limitrofe. Sì, contiamo sicuramente di replicare il grande successo dello scorso anno ma perché no magari anche raddoppiarlo visto che le premesse ci sono tutte e siamo sicuri del fatto che ci sarà tanta bella gente e una gran bella organizzazione. Ecco Andrea, le iscrizioni le fate sul posto oppure già avete delle adesioni? Allora, le iscrizioni si sono chiuse circa una settimana fa per quanto riguarda la prevendita quindi quella prevendita che permetteva diciamo di godere di prezzi privilegiati. Sicuramente potranno essere fatte in loco con un corrispettivo degno dei nomi che verranno appunto in Riviera. Tra tutti vorrei segnalare addirittura George Lu che è un cinese che presenterà il suo programma di Zumba e quindi ecco nomi altisonanti che stanno chiamando veramente tanto pubblico. Ecco vedo che giustamente avete anche delle distinzioni cioè c'è il parco dance e il parco fitness giusto? Sì, non solo, addirittura abbiamo anche un terzo palco che è il palco per quello che riguarda poi l'indoor cycling quindi per capirci il ciclismo da palestra, quello indoor, l'indoor cycling quindi saranno tre palchi appunto il fitness, il dance che sono quelli preponderanti e poi ci sarà questo terzo palco per le bici. Naturalmente la bicciarena verrà pedonalizzata quindi verrà resa fruibile con delle pedane in legno e il tutto contornato appunto dalle tribune per accogliere tutti i curiosi e quelli che vorranno assistere alle elezioni. Ecco avete una platea particolare oppure chiunque curioso o affezionato viene lo stesso? Certamente la manifestazione è rivolta a tutto il mondo del fitness quindi ai frequentatori delle palestre, agli sportivi in generale ma ci sarò anche io che non sono un vero e proprio sportivo quindi sicuramente è rivolta a tutti. Poi ripeto la location permette a curiosi e non di fermarsi quindi certamente siamo aperti a chiunque voglia avvicinarsi e poi perché no, insomma, proseguire questi interessanti programmi durante l'inverno anche presso il nostro centro dove tutti questi presenter poi durante l'anno torneranno per riproporre le loro masterclass giornaliere. Ascolta Andrea, vedo che degli orari insomma siete impegnati mattina, pomeriggio e sera avete delle fasce, giornata totalmente piena. Certo, abbiamo deciso di soddisfare tutte le richieste quindi la tre giorni verrà occupata dall'alba al tramonto è il vero senso della parola perché inizieremo alle 9 di mattina per terminare in serata anzi, giusto appunto vorrei ricordare sabato 25 alle ore 19 ci sarà un beach party quindi un aperitivo al tramonto dove sarà possibile per tutti, appunto, ripeto, sportivi e non fermarsi, bere un aperitivo e ascoltare della buona musica ecco. Andrea, ti ringrazio per il tuo intervento grazie a voi per l'ospitalità ti lascio all'amica Valentina Cummina che sarà più curiosa del chiederti altre cose in bocca al lupo grazie direttore e buonasera a tutti gli spettatori grazie a tutti grazie a tutti